Ciao sono Luca e in questo video vedremo come eseguire il military press per le spalle. Posizionati su una panca con lo schienale a 90 gradi selezionando un carico in termini di bilanciere che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento, senza compensare con il corpo iperestendendo la schiena che invece mantiene le proprie curve fisiologiche. La distanza dalle mani sul bilanciere sarà leggermente maggiore rispetto alla larghezza delle spalle. L'esecuzione consiste in questo movimento di spinta estendendo le braccia sopra la testa con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei deltoidi, espirando quando li contrai e ispirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. L'arco di movimento sarà ampio con un'esecuzione lenta e controllata che ottimizzi il tempo sotto a tensione per i migliori risultati. Con questo esercizio alleniamo tutti e tre i capi dei deltoidi e in particolar modo i capi frontali. Posizionati al multipower selezionando un carico in termini di dischi che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda la tecnica senza compensare in maniera non corretta iparestendendo la schiena. La zona centrale del corpo a livello del core sarà contratta per mantenere una buona postura con le scapole addotte e depresse per proteggere l'articolazione delle spalle. Movimento lento e controllato con un ampio arco espirando quando contrai e ispirando nell'altra fase da eseguire lentamente poiché la fase eccentrica è quella più efficace. Nella fase di contrazione puoi formarti in mezzo secondo per i migliori risultati. Gomiti mantenuti a 45 gradi non troppo distanti dal corpo con una presa leggermente più larga rispetto alle spalle in questo modo colpendo al meglio deltoidi per quanto riguarda in particolar modo quelli anteriori. Per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare qui trovi gli altri esercizi. Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.